Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 si segnalano due chilometri di coda tra il Bivio per la variante di Valico e Calenzano, Sesto Fiorentino, in direzione Roma, per un veicolo in avaria. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto, in direzione Cecina. Sulla statale 3 Bis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Val Savignone e Canili, in direzione Ravenna, chiuso lo svincolo di Canili. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per lavori tra bagni di lucca e fabbriche. A Firenze, restringimenti e senso unico alternato in via Canova, per lavori fino al 31 agosto. Borsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!